Una persona, un insospettabile di 56 anni, sposato e con figli, è stato portato nel carcere di Vallo della Lucania questa mattina dai carabinieri della stazione di Camerota. I militari infatti hanno eseguito la misura cautelare su disposizione del Tribunale di Napoli nell'ambito di un'indagine che è stata avviata dalla Polizia Postale per pedopornografia. L'uomo era stato denunciato, è stata scorsa, da una ragazza che segnalò di essere stata importunata tramite alcuni social. I controlli della Polizia Postale avrebbero rinvenuto sul cellulare dell'uomo presunti file pedopornografici e foto di bambini, a quanto meno sospette. L'uomo, stando alle accuse, si sarebbe collegato a internet tramite il wifi di una struttura ricettiva della zona presso la quale lavorava e da lì avrebbe scaricato delle immagini di 30 minori. Ora le indagini sono ancora in corso, l'uomo per ora resta nel carcere di Vallo della Lucania.